Oggi lunedì, quarta giornata di ritorno del campionato provinciale giovanissimi, Girone Chieti, Travirtus Castelfrentano e Baldisangro squadra B. Qualsiasi sia il risultato non fa classifica. Adesso ci sarà l'ingresso in campo e c'è un minuto di raccoglimento per la scomparsa del calciatore Davide Astori della Fiorentina. Grazie a tutti. Adesso si schieriranno tutti a centro campo per un minuto di raccoglimento. Un minuto di raccoglimento. In memoria del calciatore della Fiorentina Astori Davide, scomparso tragicamente ieri mattina ad Udine, prima della gara della Fiorentina con l'Udinese. Ieri c'è stata la sospensione dei campionati di Serie A e di Serie B e adesso c'è un minuto di raccoglimento. I nostri ragazzi giocheranno con la divisa giallorossa, la prima ufficiale, mentre la Baldisangro con la gialloblù. Signore e signori, buon divertimento.